Si corre sul filo della terza giornata con alcune squadre iblee che domani sono chiamate a compiti abbastanza impegnativi. In Serie D ad esempio il Ragusa affronta all'Aldocampo la Cireale ancora a secco di punti. Gli azzurri non stanno certo meglio avendone solo uno, per cui già domani se non è una sfida a salvezza poco ci manca. In eccellenza invece il vittorio debutta al Comunale contro il Taormina, sperando di fare il bis di Rosolini, mentre il Comiso ha forse l'impegno più ostico anticipando la gara che lo vede opposta alla Tiger Brolo. In casa invece il Modica che riceve un San Gregorio alquanto dimesso, per cui il Rosso-Blu dovrebbero bagnare la stagione col primo successo. Altri incontri di un certo interesse in questa terza giornata, nuove Gia Tretico-Gela e soprattutto Real Avola-Orlandina. In promozione inoltre è già tempo di derby nel Lipparino per la sfida tra Santa Croce e Ralbiscari. Da un lato l'undici dilucenti subito scottati in avvio contro l'Augusta, dall'altro la formazione di Guarino già scattata invece col piede giusto. Tutto può succedere mentre lo Scicli sarà fuori casa contro il Rarinantes e il Caltagirone ospita il Sant'Angelo Licata.